ciao a tutti bentornati a stirare con angela la nuova rubrica di casa battistella oggi vi faccio vedere come stirare una camicia con il nostro tavolo da stiro aspirante eolo e la nostra caldaia vaporino bene adesso riempiamo la caldaia 2 litri e 100 di acqua un'autonomia di stiro sulle due ore e mezza 3 riempito d'acqua accendiamo ferro e caldaia e aspettiamo 10 minuti circa bene prendiamo la camicia io parto dal collo con l'aspirazione e gli do un bel po di vapore dietro sempre con una buona aspirazione e un bel po di vapore come notate il vapore non mi viene in faccia perciò una buonissima aspirazione spalla sempre aspirando l'altra spalla dopo io passo alle maniche polsino sempre con l'aspirazione io stiro dall'interno che allora così non si piega non fa lucido la manica io per comodità la stiro con la piega così faccio prima l'azione con l'asse aspirante che tira via l'umidità il vantaggio è che si passa da una parte solo non bisogna rigirarla prenderla tante volte in mano l'altra manica il potere dell'aspirazione è fantastico si dimezza proprio il tempo di stiro eccola stiriamo il davanti si passa al dietro io per facilitarmi accompagno sempre la mano così l'aspirazione stende bene il tessuto stirata la mia camicia ecco qua camicia perfettamente stirata con i nostri prodotti eolo e vaporino vi aspetto alla prossima puntata ciao a tutti